Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Nel video di oggi andiamo a vedere un wallet per Bitcoin incentrato sulla privacy e sulla sicurezza grazie alla rete Tor e al processo CoinJoin. Andiamo a parlare di Wasabi dopo la sigla. Andiamo a vedere che cos'è questo wallet Bitcoin che viene chiamato Wasabi raggiungibile all'indirizzo wasabiwallet.io Tanto per cominciare iniziamo col dire che Wasabi Wallet è un portafoglio Bitcoin open source non custodial e incentrato sulla privacy. Ed è disponibile al momento solo per desktop, quindi solo per PC. È disponibile al download per tutti i sistemi operativi, partiamo dal Mac, Windows, Ubuntu e Linux quindi compatibile con la maggior parte dei sistemi operativi. La connessione di questo wallet viene fatto tramite il protocollo Tor, quindi completamente anonime. Un'altra cosa molto interessante che molti portafogli Bitcoin non permettono è il cosiddetto CoinJoin che è automaticamente incorporato. Andiamo a vedere che cos'è questo protocollo. Il protocollo CoinJoin è implementato per migliorare la privacy degli utenti di Bitcoin. Questo metodo consiste nel poter unificare, nello stesso tempo, tutte le transazioni che verranno eseguite da diversi utenti nella blockchain. Per tanto, una volta che queste transazioni vengono unificate, nessun utente, nessun utento, comunque nessuna terza parte, potrebbe mai determinare da dove provengono quei fondi. Questo perché gli input e gli output di queste transazioni non possono essere rintracciati o associati. Per tanto, nemmeno il destinatario di una transazione potrebbe sapere da dove ha ricevuto i suoi fondi. Anche perché bisogna ricordare che Bitcoin è privato, ma non anonimo. Questo significa che con la transazione di Bitcoin può essere tracciata fino al punto da dove è partita. Il CoinJoin è stato introdotto nel 2013 da Gregory Maxwell, dove sempre nel 2013 tramite il suo account di Bitcoin Talk ha spiegato nel dettaglio lo sviluppo e il funzionamento del suo progetto. Il progetto nasce da una necessità di trovare una soluzione per quanto riguarda la privacy di Bitcoin. Perché, come abbiamo detto poc'anzi, non è una criptovaluta realmente anonima. Inizialmente, per eseguire una transazione con CoinJoin, era necessario che tutti gli utenti della rete, o comunque la maggior parte degli utenti della rete, stabiliscono la decisione unanime di utilizzare questo metodo. All'interno di Wasabi, CoinJoin è incorporato, quindi non c'è bisogno di accettare questo regolamento. Facciamo un esempio pratico. Supponiamo che Marco voglia trasferire un Bitcoin dall'indirizzo A all'indirizzo B, mentre Luca voglia trasferire un Bitcoin dall'indirizzo C all'indirizzo D. Per rendere privata questa transazione, entrambi si mettono d'accordo e decidono di utilizzare CoinJoin, allo scopo di combinare le loro transazioni, i loro trasferimenti, in un'unica transazione, che ha due input A e C e ha due output B e D. In poche parole, CoinJoin, che cosa fa? Prende le transazioni di queste due persone, le combina e le mescola in un'unica transazione, una volta rimescolata queste due transazioni insieme, le sdoppia e ovviamente ogni transazione va al suo destinatario. Facendo questa miscela delle transazioni, per un attimo si va a perdere traccia dei due Bitcoin, quindi sarà molto più difficile riuscire a rintracciare all'indietro da dove sono partiti. Una volta scaricato il portafoglio sul vostro computer, si dovrà solamente andare a creare questo wallet, in pochi semplici passi che vi farò vedere. Si apre sul wallet, diamo un nome, io lo chiamo per esempio Mauri, Scegliamo la password e clicchiamo su next. Dopodiché dobbiamo andare a copiare i nostri seed, quindi sono le parole di recupero. Una volta che siamo sicuri di averle copiate in modo corretto, andiamo a generare il nostro portafoglio. Inseriamo la password ed ecco che abbiamo creato il nostro portafoglio. È molto molto semplice come vedete. Abbiamo il nome del nostro portafoglio e il quantitativo di Bitcoin, la possibilità di inviare ovviamente Bitcoin, di riceverlo, di utilizzare il CoinJoin, cliccando su CoinJoin noi andiamo a autorizzare una transazione fatta apposta come vi ho spiegato prima, quindi unendo più transazioni per poi dividersi automaticamente e andare ai propri destinatari in modo da non essere rintracciati. Abbiamo anche la possibilità di vedere uno storico. In alto a destra abbiamo la possibilità di creare un altro portafoglio, ripristinare un portafoglio esistente, caricare un nostro portafoglio, cambiare la password o collegare Wasabi a un hardware wallet. Alcuni di voi provando questo wallet sicuramente si accorgeranno che è un pochino lento rispetto ai light wallet che siamo abituati a utilizzare, perché proprio per garantire una certa sicurezza va a scaricare all'interno di questo wallet open source alcuni blocchi della rete, non tutti ovviamente perché sennò si bloccherebbe il wallet, ma va a scaricare tra i 3 e i 4 nodi, li va a integrare. Con Wasabi abbiamo il controllo totale dei nostri Bitcoin, questo significa che nessuna terza parte può congelare o perdere i tuoi Bitcoin. Quindi siamo noi completamente responsabili del nostro portafoglio tramite le chiavi di sicurezza e backup del portafoglio stesso. Un'altra caratteristica importante è che questo portafoglio fornisce dei suggerimenti non vincolanti sulle commissioni in base alle condizioni della rete. Questo significa che il portafoglio ci aiuta a scegliere le commissioni adeguate e le fie adeguate affinché le transazioni siano confermate in modo tempestivo senza pagare più di quanto si dovrebbe. Nonostante però questi suggerimenti vengono inviati ogni volta che noi cerchiamo di fare una transazione, c'è sempre la possibilità di ignorare questo suggerimento e impostare delle fie diverse. Siamo arrivati alla fine anche per oggi del nostro appuntamento, spero che il video vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Vi chiedo di iscrivervi al canale per supportare il mio lavoro, unirvi alla nostra community Telegram e lasciarmi un like. A domani, buona giornata! Grazie a tutti!